Ciao a tutti, oggi prepareremo le cosce di pollo gustose. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 70 minuti. Gli ingredienti sono cosce di pollo, patate tagliate a fette, carote tagliate a rondelle, sale, pepe, origano, rosmarino, olio, scalogno, vino bianco, acqua e dado bimbi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi, velocità 1. Aggiungiamo adesso l'acqua, il vino bianco e il dado bimbi. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino, posizioniamo il varoma con le cosce di pollo, saliamo, mettiamo un po' di pepe, qualche foglialina di rosmarino e un po' di origano. Versiamo le patate, le carote, condiamo sempre con origano, il rosmarino, il sale, il pepe. Irroriamo con un filo d'olio chiudiamo con il coperchio e facciamo cuocere per 60 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. Il pollo è cotto, mettiamolo in un piatto da portata ed irroriamolo col sughetto rimasto nel boccale. Cosce di pollo gustose Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.